qual'è? 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 razza o questo? razza? questo spacciatore? che cosa sta facendo? faccia la telecronica i residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano che cosa vuol dire? io faccio questo Iaia buongiorno buonasera il signor Iaia lei ha il primo piano? ci può far entrare cortesemente? a casa mia eh no a casa mia sì a casa sua no perché ci hanno segnalato cosa sgradevole volevo che lei la smentisse ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere ma chi è questo? ce l'hanno detto dei cittadini hanno detto il giusto e sbagliato attaccato attaccato è questo qua è tunisino no no non